La FIDAPA sezione di Giarre Riposto ha riaperto i battenti e ieri sera ha presentato presso la sala conferenza del Sicilia Hotel Spa di Giarre il nuovo programma per l'anno sociale 2016-2017. La serata, alla quale hanno preso parte insieme agli affiliati alcuni presidenti delle altre sezioni provinciali e altre autorità fidapine, è stata presentata dal presidente della sezione di Giarre Riposto, Anna Castiglione. Erano inoltre presenti all'evento il presidente distrettuale FIDAPA Rosa Maria Lascola, il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, il presidente del Lions Club di Giarre Riposto Sebastiano Russo e il soprano Marianna Cappellani, che si esibita nel corso della serata. Come sempre, tanti saranno gli appuntamenti culturali ed educativi dell'associazione. Tra questi, il più vicino è quello che avrà luogo il prossimo 17 novembre, con la presenza del generale Garofano, in occasione della vicina giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il femminicidio. La FIDAPA ha comunque stabilito un tema nazionale per il biennio 2015-2017, ovvero i talenti delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del nostro paese, scelto dalle varie sezioni per mettere in luce la capacità delle donne di fare la differenza e mostrare l'eccellenza al femminile nei vari settori, per cui nel corso dell'anno questo sarà il filo conduttore che le varie sezioni seguiranno.